E quindi Don Davide si è contento dei video di... Mi paremmo di caseramenti. Beh, ci sono... Chi cune i video? No, ma ci ci sono i video. Ah no? Prima devo vedere se sei schifo. O se sei finito nei groupers, ad esempio. Hai già registrato? Sì. Ah, ciao. Sì. Bene. Per qualche modo, tutta posta. Ancora, facendo le prove. Adesso non vediamo. Eh... Stai con un account da 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 da. Senti più? Senti dubbi sul... Il sistema dei tesseramenti. Mio. Sul sistema va a friggere. Voi stai in diretta, allora. Ciao. Ciao. Senti dubbi sul sistema dei tesseramenti. Non esistare a votare nel inizio. Guarda con i pacchi. Certo. Senti compiare un... Paio di capi. Paio di capi. I barretta. Barra. Barra. O. Qui. Sì. Trattito sotto. Prego. Sono proprio corto. Non mi era dire in inglese. Trattito. Il test. Le... Attività... Con un solatorio. Di colori. Pizzera. Inoltre. E' molto più famoso. Il prossimo anno... Cosa bisogna dire a fare? Il prossimo anno. Vi far dovrei inserirlo nel mio canicolo a fare. Io non è il nostro ortodio. Vi attività il nostro ortodio. Li perco come d'estate. Colleggetevi al sito bit.ly Bara Guardate, probabilmente non avevo l'intenizzazione, no? Ho fatto la mia Hai le dubbi di Anna Maria Ok, mettiti qua in sticato, dobbiamo vedere Ma è come prima È come prima, la ricordatura è la stessa Inoltre, è molto più conto Non me ne ricordo più Volete sapere se ci sono altri moti di parte serace? Molto, ti ho detto, molto Sì, sì, è perfetto Oratorio.sbdp Vai a farti il video Oratorio.sbdp Vai a farti il video Clicca, cerca Cos'è? Sito bit.ly Clash Così O 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 Ok. Aspetta un attimo. Non c'è uno specchio. C'è uno specchio così? Allora. Ora scegli se devi scegli. Io vengo qua e già ho camminato. Ma ho male. È un cavolo. Scusa ma possiamo diventare ancora così? Non c'è uno specchio.